Commento al Vangelo della Domenica delle Palme 2020 Innanzitutto desidero ricordarvi che la mia non è mai una pretesa né teologica né esegetica ma semplicemente un desiderio di condividere un momento spirituale ingentrato sul Vangelo che possa così servire a me e piacere a chi mi ascolta così per una valutazione un incontro spirituale con il Vangelo ecco niente di più di questo che dire appunto della Domenica delle Palme quando si sono spesi in questi secoli tanti commenti tante parole ecco quindi non voglio proprio fare questo ma visto che stiamo entrando in quella settimana autentica quella settimana più preziosa per noi cristiani che vive quasi di contraddizioni un Dio che va in croce una morte che in realtà non è morte una risurrezione che non viene subito compresa e una cena tra amici dove avviene un tradimento quindi tutta una serie diciamo di grandi contraddizioni che ci portano poi all'apice alla scoperta più bella del nostro Dio di amore e misericordia allora ecco terrei per questo momento spirituale per questa settimana di cui in cui tutti siamo chiusi in casa magari qualcuno ha fortuna di avere un bel panorama o di essere in quarantena in un luogo molto bello magari qualcuno no ma sicuramente ha accesso a delle belle letture a un momento di silenzio in casa propria ecco quella settimana autentica proprio rimarrai su questa parola di fronte anche al tradimento di Gesù che viene accolto a Gerusalemme come un re ma poi viene crocifisso come l'ultimo dei ladroni ecco questo riguarda un po la nostra vita per affrontare bene questi giorni così autentici così profondi dobbiamo riuscire a scoprire quelle che sono le contraddizioni della nostra vita più o meno grandi che siano io credo che ognuno di noi ne abbia e proprio ora siamo di fronte a questa contraddizione cioè le volte che vorrei camminare in un modo ma la contraddizione mi porta poi a compiere azione in un altro modo è lì proprio la conversione è la misericordia del Signore che ci aspetta e quindi possiamo allinearci diciamo proprio per vivere in maniera autentica la nostra vita e a partirei proprio da quello che il coronavirus ci sta ricordando ci sta facendo vivere in questi mesi le relazioni l'autenticità delle relazioni amare voler bene con autenticità che significa con verità e con profondità e con grande libertà anche per quello che siamo magari con un gesto d'affetto sincero in più anche se ci crea un po di vergogna un po di imbarazzo saper dire a chi c'è accanto chi sta dalla parte opposta del palazzo ti voglio bene perché sei una persona come me piena di contraddizioni ma piena anche della meraviglia della presenza del Signore buona settimana santa